Il curioso caso di Benjamin Button è un film del 2008 diretto da David Fincher ed è basato su un racconto breve di Francis Colt F. Gerald. Siamo nei primi anni 2000 e siamo in un ospedale, al capezzale di una donna, una madre, che sta per lasciarci. Qui la figlia Caroline cerca di dare l'assistenza per quanto possibile in questi suoi ultimi momenti. L'anziana signora, ad un certo punto, indica alla figlia un diario. Un diario che scopriremo molto presto, dal momento che comincerà a essere letto dalla figlia, essere appartenuto a un certo Benjamin Button. Benjamin Button è un uomo nato in circostanze misteriose. Misteriose, straordinarie, affascinanti. Comincia quindi la sua storia. La storia di quest'uomo, nato nel 1918, che è sempre vissuto con una particolarità. Egli, infatti, è nato anziano e a poco a poco, con lo scorrere del tempo, è divenuto sempre più giovane, fino, immaginiamo, ad arrivare al suo termine da bambino. Una storia straordinaria. Una storia straordinaria, tratta appunto dal racconto di Fitzgerald, che ho avuto modo diverse volte di vedere nel corso degli anni e che è sempre stata, per quanto mi riguarda, una delle storie che ho trovato più appassionanti nella filmografia di questo regista, che adesso ho avuto modo di rivedere nel mio percorso di recupero completo della filmografia di Fincher. Questa storia, avente come protagonista assoluto Brad Pitt, che interpreta appunto Benjamin, ci racconta di questo bambino infante che è nato al termine della Grande Guerra e di cui padre, che ha perso la moglie al momento del parto, decide di darlo via, dopo, inizialmente, essere stato tentato addirittura di ucciderlo. Sconvolto dalla perdita della moglie, ovviamente, e forse ancora più sconvolto dalla nascita di questo bambino all'apparenza, diciamo, deforme, per certi versi, anziano, appunto, un vecchietto, microscopico, alla fine però questo padre deciderà di lasciare il piccolo Benjamin presso una casa. Una casa per anziani, avremo modo di scoprire, in cui verrà raccolto da una delle persone adibite appunto a gestire questi anziani. Quindi, una giovane donna nera che lo crescerà come sua madre, assieme magari al suo compagno, Tizzi. Sarà questa l'occasione per vedere, quindi, Benjamin crescere nel corso del tempo in questo scenario, questa sorta di casa di riposo, se vogliamo, e a poco a poco vedremo tutte le fasi della vita di Benjamin, una vita che a poco a poco riusciremo a comprendere, riusciremo a vedere, essere sempre più avventurosa, appunto, e lo vedremo passare dall'età più avanzata, appunto, almeno fisicamente, per poi arrivare sempre più ad una giovinezza. Vedremo un Benjamin infantile, quando magari sarà assolutamente stempiato, pieno di osteoporosi o quant'altro. E a poco a poco la storia andrà avanti, quando magari lui riuscirà a trovare la forza, chissà, forse, per certi versi, anche grazie a un predicatore di camminare, vedremo effettivamente come il tempo gioca in maniera strana con Benjamin, dandogli la possibilità, da anziano, di divenire sempre più adulto. Affascinante questa cosa, un'idea che trovo assolutamente affascinante, che ho sempre trovato estremamente suggestiva, così come ho sempre trovato estremamente suggestiva tutta la modalità di messa in opera di questo film. Un film che so essere stato candidato a tanti premi, anche se ne ha vinti soltanto alcuni, in realtà alla fine, e che, devo dire, mi ha sempre molto colpito, per tanti aspetti. A poco a poco che la storia va avanti, tutto il look visivo, così caldo e accogliente, e al tempo stesso la musica pacata, crea in me una grande suggestione, e credo che possa rendere questo film estremamente suggestivo ed immersivo. Non soltanto nello scenario storico, appunto, in cui si trova il nostro Benjamin, principalmente l'America, appunto, del periodo successivo alla sua nascita, il 1918, ma anche tutto quello scenario di calore, appunto, che i vari personaggi che Benjamin incontrerà avranno modo di suscitare in lui e nello spettatore. Sono tanti i personaggi che Benjamin incontrerà. Inizialmente, nella sua casa di riposo, troverà tanti anziani, che, spesso e volentieri, saranno prossimi alla morte, e forse vi arriveranno proprio, che avranno tutti delle storie, in realtà, peculiari, o quantomeno, alcuni di loro riusciranno a mantenere un ricordo vivido in tutta la vita di Benjamin. Sarà l'occasione, attraverso un'anziana signora, che si trova, appunto, in questa sorta di ricovero, per Benjamin, di conoscere poi Daisy. Daisy, che molto presto ci renderemo conto essere l'anziana signora dell'inizio di questo film, verrà interpretata in maniera definitiva da Kate Blanchett e sarà, inevitabilmente, l'amica, l'accomplice, l'amore per il nostro protagonista. Un protagonista che si avvicinerà e si allontanerà a lei nel corso del tempo, così come si avvicinerà e si allontanerà a quello scenario iniziale in cui è nato, è cresciuto, appunto, dal momento che quando sarà divenuto abbastanza grande o meglio, abbastanza giovane, deciderà di prendere e comincerà ad andare in giro dopo alcune esperienze iniziali che avrà modo di fare, magari grazie a quei personaggi pittoreschi che bazzicheranno un pochettino dalle sue parti. Qualcuno, magari, legato addirittura al suo passato e che chissà, forse a un certo punto lo incontrerà. Benjamin girerà molto, soprattutto ad un certo punto arriverà addirittura a divenire un marinaio e sarà proprio lontano da casa che magari incontrerà qualche personaggio apparentemente posato, represso, con il quale magari legherà molto, con il quale potrà vivere qualcosa di molto importante e dal quale distaccarsi magari. L'avvicinamento e il distacco di Benjamin dai tanti personaggi che hanno caratterizzato la sua esistenza è un qualcosa che secondo me viene reso molto bene in questo film e in tutto ha una sorta di magia favolistica se vogliamo un particolare incanto che rende a mio avviso questo film a tratti veramente incantevole. È un film questo che riesce a rendere estremamente bene il senso di solitudine che il personaggio di Benjamin prova secondo me. Benjamin infatti per la sua condizione così peculiare è unico al mondo ovviamente e quindi vive le cose in maniera forse un po' diversa da come tanti le viverebbero. non cerca mai diciamo di esternare veramente in maniera molto drammatica i suoi sentimenti è sempre estremamente posato Benjamin e dal tempo stesso è evidente a mio avviso che nella sua fragilità soprattutto quella dell'inizio della sua esistenza Benjamin cerchi di nutrirsi degli altri si fa affascinare dal mondo dalle sue dinamiche e dalle persone che incontra e noi ce ne rendiamo molto bene conto di questo magari quando avrà alcune esperienze con dei diversi almeno rispetto al contesto tipico e stereotipato di un certo tipo di America in cui è nato o perché no magari quando appunto incontrerà persone che avranno una storia particolare oppure ad un certo punto chissà forse anche grazie a Benjamin riusciranno a creare una loro vera storia mamma mia sono veramente affascinato da questo film è un film questo che ci racconta di questi viaggi di queste conoscenze ci racconta questa storia di questi contatti che ha Benjamin e di questo amore questo amore per Daisy appunto l'amica la complice e infine l'amante che avrà modo di incontrare più volte ci saranno vari momenti di vicinanza o di lontananza fra questi personaggi tutti quanti secondo me resi molto bene e sinceramente ho trovato appassionante vedere in parallelo con lo svolgersi della vita e delle decadi di Benjamin lo svolgersi appunto della loro storia assieme assieme o meno che sia ovviamente Daisy diventerà una grande ballerina ma ad un certo punto vedrà il suo sogno infrangersi e sarà quello il momento in cui dopo alcuni momenti di vicinanza e di allontanamento da Benjamin alla fine comunque ci sarà il punto di contatto definitivo con quello che sarà tendenzialmente un po' l'amore della sua vita un amore che sarà sempre consapevole comunque perché soprattutto ad un certo punto della storia i personaggi così come lo spettatore si renderanno conto più che mai che con lo scorrere del tempo e con magari una nuova vita che sta per arrivare il problema di una vecchia vita che torna tanto indietro potrebbe divenire qualcosa di ingestibile il resto è stato la loro storia una storia che ha visto momenti di avvicinamento e di allontanamento appunto e che anche al tramonto del protagonista di questa vicenda comunque li ha visti riuniti ovviamente in quelle modalità in quello scenario così straordinario e al tempo stesso così tragico è un film questo che riesce ad essere profondamente triste in determinati frangenti riesce a trasmettere una profonda malinconia ed è trovato estremamente suggestivo vedere i momenti di difficoltà di un benjamin anziano dopo tanti anni tanti minuti di un benjamin più giovane Brad Pitt appunto e vedere questo benjamin anziano bambino è un qualcosa di particolarmente dissonante e suggestivo dal punto di vista visivo questo film come ho detto mi ha colpito molto mi ha suggestionato tutto quanto quello che è l'aspetto tecnico se vogliamo anche ad esempio l'effettistica con gli standard di adesso probabilmente molto antiquata all'epoca mi ricordo quando lo vedi per la prima volta tanti anni fa mi colpi molto e a tutt'oggi ritengo che ci sia un certo gusto in come viene mostrato Benjamin soprattutto nei suoi primi anni di vita nei suoi primi anni di anzianità un film che mi è piaciuto molto quindi sotto il punto di vista tecnico sotto il punto di vista concettuale mi sono piaciuti molto gli interpreti sia quelli secondari che magari vanno e vengono nella vita di Benjamin o dai quali Benjamin va e viene in realtà sono soprattutto i diversi se vogliamo i personaggi con cui si scontra Benjamin quelli che magari hanno avuto un certo tipo di vita di sviluppo e che magari chissà sognavano qualcos'altro e chissà forse qualcuno di loro alla fine riuscirà a fare o essere qualcos'altro o qualcun altro al tempo stesso i due interpreti principali Brad Pitt e Kate Blanchett li ho trovati estremamente convincenti Pitt secondo me funziona molto bene allo stesso tempo la Blanchett è a mio avviso a tratti veramente favolosa in questo film e sono bellissimi da vedersi assieme nei momenti di amore anche nei momenti di confronto perché ci saranno dei momenti di confronto e comunque di difficoltà per questi personaggi non soltanto per la dinamica del tempo che scorre in maniera diversa per i due ma anche magari per le prospettive che possono avere o magari perché quando l'uno è pronto a stare con l'altra magari non è così al contrario e chissà viceversa anche alla fine questo film quindi mi convince sotto un po' tutti gli aspetti diciamo ci sono forse alcune cose che mi lasciano leggermente meno convinto nel giudicare questo film un capolavoro un film che è perfetto capiamoci ad esempio questo non voler palesare troppo determinate emozioni soprattutto quando si tratta di benjamin è un qualcosa che può essere apprezzato come no io personalmente ho apprezzato il voler mantenere tutto su un tono abbastanza pacato senza picchi particolari però capisco che possa essere un qualcosa che in determinate circostanze magari può un pochettino stonare soprattutto quando magari c'è l'allontanamento un allontanamento forse quello più doloroso tra benjamin e daisy quando la bambina è già nata quella bambina con cui daisy comincia questo film poi ci sono alcune leggerezze magari legate alla sorella se vogliamo di benjamin che di fatto a mio avviso è abbastanza irrilevante sinceramente e poi vabbè tutte quante cose che sono in realtà comunque riconducibili a quella sospensione dell'incredulità che in realtà già deve esserci stata nel momento in cui cominciamo questa storia una storia che al netto di alcune magari criticità trovo ho trovato e credo continuerò a trovare estremamente appassionante e suggestiva e per questo mi sento di consigliarla in tutto il suo pacato costante e caloroso splendore il curioso caso di benjamin button di david fincher guardatevelo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti